per i più curiosi qui ho tutte le confezioni di cd non standard guardate che formati strani adesso ve li faccio vedere più da vicino questo qui per esempio ha una retina qui c'è la gomma delle metropolitane questa è di legno la copertina questo è un cuffanetto metallico qui abbiamo addirittura una millantata partecipazione all'eurovision sound cost del 22 ovviamente falsa e addirittura un disco di giovanni paolo secondo così a quanto pare confezioni strane tagliate questo è un forma di 45 giri fatto tipo collage però è un mini cd questo è c'è un pezzo di metallo e poi abbiamo i mini cd confezioni strane di formato tessera e guardate questo di utenante murno qualcuno lo conoscerà niente c'è un pezzetto di cd non c'è nemmeno il cd ci sono dei frammenti una cassetta che usa quei bulloni un sb e questo qui folk folk spruz e ramirez che in realtà sono italiani e dentro c'è teddy bear il loro stacchiotto con i succiotti anche che che Grazie.